Ciao a tutti, allora ancora un video poi giuro che basta ancora un video per farvi vedere gli ultimi acquisti perché sono stata in un negozio dove vendono alimenti bio e quindi ho preso un po' di cosine ma cominciamo subito allora ho preso questi plum cake al grano saraceno senza glutine che insomma da provare secondo me ho ripreso il tè, sapete che io questo lo adoro Isola Bio perché comunque è dolcificato con lo sciroppo d'agave e è detenato quindi è molto delicato per me che insomma sto un po' così a livello intestinale poi mio marito ha ripreso questi che sono i cereali al cioccolato mi piacciono tantissimo e sono penso buoni non lo so perché non li ho provati lui dice che sono buonissimi poi abbiamo assaggiato perché c'era un reparto in cui su un vassoietto c'erano dei biscotti li abbiamo assaggiati buonissimi, veramente buonissimi quindi poi li abbiamo acquistati e sono questi i biscotti al cioccolato sono veramente, veramente buonissimi e li fa questa ditta francese le Moulins du Pivert e hanno il certificato di agricoltura biologica e sono dei semplicissimi biscotti non hanno farine particolari no, farina di grano zucchero di canna non raffinato olio di girasole deodorato cioccolato 12% burro di cacao malto di grano nocciole cacao in polvere agente levitante bicarbonato e fibre di avena succo di limone vaniglia in polvere ingredienti provenienti dal commercio eco e solidale ok e senza olio di palma c'è scritto eccolo lì ma sono qualcosa di veramente, veramente straordinario veramente buoni proprio buoni buonissimi poi ho ripreso questo latte di riso al cocco questo è qualcosa di fantastico penso che poi non lo riprenderò per la stagione invernale perché lo trovo comunque una bevanda più estiva però vabbè l'ho voluto riprendere ho ripreso lo sciroppo d'agave così questo poi ho preso lo zucchero di canna integrale questo qui dolcita questo poi ho comprato non ne ho la più pallida idea di che cosa sia era insomma vicino alle casse questo snack sempre al cocco credetemi non so adesso leggo gli ingredienti insieme a voi allora noce di cocco sciroppo di riso sciroppo d'agave farina di cocco e latte in polvere ok quindi non so sinceramente c'è scritto barretta a base di cocco ma non so com'è questa qua se buona poi vi farò sapere poi ho preso sempre per parlando di cose da mangiare questa ciocco reale che dovrebbe essere una sorta di nutella perché è un'offerta dico vabbè proviamola sempre ovviamente da agricoltura bio e vado a leggere un attimino gli ingredienti sempre insieme a voi c'è scritto crema da spalmare al cacao zucchero di canna olio di girasole cacao magro in polvere farina di soia emulsionante ricettina di soia estratto di vaniglia bourbon comunque non sono sempre cose molto molto salutari adesso bio non bio comunque vabbè l'ho voluta prendere ogni tanto ci può anche stare poi ho preso vediamo l'olio essenziale di lavanda questo 10 ml l'ho pagato 9 euro però l'avevo finito da parecchio in realtà l'avevo finito da un paio di mesi quindi l'ho ripreso eccolo qua poi ho preso io credo che di aver visto questo prodotto su un video di paola ma non ne sono estremamente sicura comunque ho ripreso questa no ho preso perché non l'ho mai ripresa prima maio rice questa qui alle erbe senza glutine senza uova e mi mi incuriosisce moltissimo come prodotto non so ancora bene come utilizzarlo o se su qualche verdura non so comunque non so la proverò poi ho preso credo che ci siamo a volte ah ok questo che è uno smacchiante liquido questo qui con sapone all'olio vegetale da agricoltura biologica olio essenziale di petit grain da agricoltura biologica efficace contro macchie di frutta di sangue di erba di inchiostro di grasso altamente biodegradabile quindi lo volevo provare perché adesso ho uno smacchiante comunque da supermercato normale volevo vedere se c'era qualcosa di un pochino più biologico e biodegradabile possibilmente poi allora lo so avevo detto non compravo più niente però veramente sono proprio gli ultimi gli ultimi gli ultimi acquisti giuro 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 veramente allora perché sono stata su un negozietto che si chiama Il Trucco che è in Ancona e con una mia amica a vedere insomma un po' di di trucchi appunto e così siccome tiene anche la neve e ho visto questo colore di rossetto della neve che è il Bloom Cake che è quello che ho indosso in questo momento che è questo prugna un po' scuro e l'ho voluto prendere perché io non sono amante cioè non so se mi stanno bene se mi ci vedo tantissimo con i colori scuri però per la stagione invernale volevo qualcosa di molto molto morbido nutriente sulle labbra e nello stesso tempo parecchio colorato vivace e quindi ho pensato di acquistarlo adesso ve lo faccio vedere è questo qui a me piace molto e considerando comunque che mi sono trovata bene con il peach maccaron che però è un colore prettamente estivo ho voluto prenderne anche uno per la stagione invernale insomma ok quindi questo poi nonostante io io sia molto 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 vogliata ad acquistare gli smalti avril non posso però ovviamente fare un ordine solo per acquistare due smalti quindi aspetteranno quindi sono passata da Kiko perché mi sono fissata un po' con due colori che volevo assolutamente da mettere sulle unghie uno è questo marroncino questo qui si vede si ed è l'815 questa è la linea quick dry si dovrebbe asciugare velocemente vedremo se sarà così questo e uno è questo prugna molto scuro questo qui eccolo allora perché ho reacquistato gli smalti Kiko che ne avevo parlato malissimo l'ultima volta perché in realtà ho scoperto che la bassissima resa che mi davano era data dal top coat opaco che avevo acquistato che una volta che lo andavo a mettere sopra lo smalto praticamente mi screpolava tutto tutta l'unghia proprio era una cosa inguardabile e io avevo addebitato questo effetto allo smalto invece no era il top coat che non andava bene probabilmente perché poi ho riprovato gli smalti senza top coat e insomma mi sono durati una buona stesura quindi insomma gli ho voluto dare un'altra possibilità ok basta ci siamo credo no non è vero mi sono scordata un prodotto allora questi qui ho ripreso anche i biscotti della salute adesso non si vede molto a limitazione naturale questi li avevo già a tempo fa sono fantastici se andate a natura si prendeteli perché cioè con latte sono la morte sua latte di soia latte di riso quello che volete ma sono buonissimi buonissimi veramente ok allora ci vediamo presto con tante 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 recensioni ne ho tantissime da farvi e poi parlerò anche un attimino della situazione mia insomma intestinale alimentare eccetera eccetera magari un altro video e ad ogni modo ci sentiamo presto un bacione a tutti ciao ciao ciao